L'esito del voto di domenica 26 maggio potrebbe aprire nuovi scenari anche per la scuola. Una prima avvisaglia si è avuta proprio nelle ultime ore. Nel pomeriggio del 29, nel corso del vertice fra il Presidente Conte e i Ministri Di Maio e Salvini, si è parlato di regionalizzazione e al termine dell'incontro Salvini ha annunciato che sulla autonomia differenziata il Governo andrà avanti in modo deciso e con rinnovato impegno. Per parte loro i sindacati ricordano che il 24 aprile era stata siglata una intesa con il Presidente Conte che prevede che la scuola sia esclusa da ogni progetto di regionalizzazione, ma è anche vero che oggi la Lega ha un peso diverso all'interno del Governo e le cose potrebbero cambiare rapidamente. Non dovrebbe cambiare invece l'impegno assunto proprio alla vigilia del voto dal Ministro Bussetti, sollecitato in questo dallo stesso Salvini di procedere al più presto ad una operazione di stabilizzazione dei precari attraverso concorsi riservati. Soluzione che piace sicuramente ai sindacati ma che non trova molto d'accordo il Movimento 5 Stelle. Su questo però si sta già lavorando perché nel decreto crescita all'esame, della Camera, proprio in questi giorni, è stato inserito un emendamento per dare il via libera all'intesa del 24 aprile. Più complicato appare invece il percorso relativo alle risorse contrattuali, promesse sì da Conte e Bussetti, ma che per diventare effettive necessitano di un impegno finanziario ben preciso. Comunque un primo riscontro sulle reali intenzioni del governo ci sarà nella prima metà di giugno. Nel corso di uno degli ultimi incontri con le parti sociali era stato infatti concordato che entro quella data i sindacati dovranno presentare le proprie richieste, mentre al governo spetterà il compito di formulare la propria offerta. E così si capirà subito l'eventuale distanza fra le posizioni. Ma tutto questo ha un senso a condizione che il governo regga. Infatti non mancano i dubbi che la crisi sia ormai dietro l'angolo. In tal caso gli scenari potrebbero cambiare e anche in fretta. Ovviamente di questo tema continueremo ad occuparci, quindi seguiteci su questo canale, inviateci le vostre osservazioni, i vostri commenti, noi ne daremo conto e seguiteci anche sul portale www.tecnicadellascuola.it. Grazie. Grazie a tutti.